Blitz all'alba dei carabinieri della Compagnia di Amalfi in diversi comuni della costiera amalfitana, del Salernitano e della provincia di Napoli. Nel corso dell'operazione denominata Rewind sono state applicate 22 misure cautelari di cui 4 con custodia in carcere in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura nei confronti di 22 persone ritenute responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di estorsione e favoreggiamento. Contestualmente sono in corso ulteriori 16 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati. L'indagine condotta dalla liqueta operativa della Compagnia Carabinieri di Amalfi e della stazione di Maiori nasce da una precedente inchiesta denominata Isola Felice e ha permesso di disvelare un preoccupante spaccato dell'universo giovanile della costiera amalfitana, fortemente condizionato dallo spaccio e dall'uso sistematico di sostanze stupefacenti anche fra i minori, nonché la forte contesa della piazza di Maiori, nillo specifico con atti intimidatori e violenti. Abbiamo accertato 500 episodi di cessione di sostanze stupefacenti in costiera in soli 9 mesi, è un numero elevatissimo e sì, l'utenza era costituita anche da minorenni, utenze intendo dire come consumatori. Quindi questo è un fenomeno sicuramente preoccupante e ci auguriamo con questo tipo di operazione di aver sicuramente frenato, non dico disarticolato, ma quantomeno frenato questo tipo di attività e quindi rallentato questo tipo di attività. L'effettiva esplosione di colpi di arma da sparo non ne abbiamo avuti, però abbiamo un episodio che si è verificato nel febbraio 2016 che documenta in modo inequivocabile come uno degli indagati che abbia estratto una pistola appuntandola al volto nel cuore della notte in una sorta di appuntamento svolto sia Maiori intimando al rivale di non occupare quella piazza di spaccio perché quella piazza di spaccio era sua evidentemente. Quindi non parliamo solo di condotte di spaccio ma anche di condotte che sono ben più allarmanti, quindi il desiderio di diventare egemoni su quella piazza. Questa operazione di polizia giudiziaria è stata, tutta l'indagine è stata eseguita di concerto con la procura della Repubblica presso i minorenni, io sono autorizzato a riferirvi a questo perché anche il comunicato stampa è stato firmato congiuntamente dal procuratore presso il Tribunale per i minorenni e su questo aspetto io preferirei non dirvi nulla, nel comunicato stampa si fa riferimento anche a 5 indagati minore di anni, 18, che sono stati imputati, che sono imputati nei confronti dei quali procede quella procura. Questa indagine ha disvelato, come dicevo prima, l'esistenza di tanti microsistemi, cioè separati fra loro, indipendenti fra loro ma anche tutto sommato collegati. In che senso collegati? Nel senso che comunque il consumatore pur rivolgendosi a un microsistema, qualora quel microsistema fosse stato sfornito di sostanze stupefacenti, sapeva che anche tramite lo stesso sistema che lo metteva in connessione con un altro fornitore avrebbe certamente trovato la sostanza stupefacente. La difficoltà che troviamo in costiera, operare in costiera, è proprio quella di fronteggiare anche un humus di fiancheggiatori che avvisano i conoscenti che sanno essere spacciatori della presenza delle pattuglie sul territorio. Su questo esiste una vera e propria catena di informazione perché è facile in costiera amalfidana sapere se la macchina o meno dei carabinieri in giro, essendoci poche strade, da poter pattugliare. Quindi erano velocissimi nel comunicare la pattuglia sul territorio o meno.